Northern Star è il brano omonimo del mio nuovo album, è una canzone molto speciale, molto personale per me. È un bel brano da suonare dal vivo perché è uno dei momenti più tenere del concerto, che è tutto molto rockeggiante. Grazie a tutti. 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 Be The One è la canzone che più si discosta dalle altre dell'album, è per l'atmosfera acustica e il sentimento di rilassatezza che lo pervade. Parlo dell'uomo giusto che sarà il mio uno. è un bel pezzo da suonare dal vivo. Grazie a tutti. 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 Amo fare gaga sul palco perché tendo a fare la pazza, cioè non sono proprio pazza, un po' sì, però faccio tutte le smorgie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il mio lavoro è così fantastico, se lo possiamo chiamare lavoro, perché amo lavorare in studio, scrivere le canzoni, registrare. È un processo molto lungo e quando arrivi in fondo sei pronto a uscire sulla strada per fare i concerti e poi i tour che durano mesi. A quel punto sei pronto per entrare di nuovo in studio e così via, quindi è bello perché vivi il meglio dei due mondi, ma preferisco il palco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti